Si alza il sipario su Cartoceto Dopp, il festival, l'evento dedicato all'oro verde delle marche. Nelle prime due domeniche di novembre, un affascinante viaggio tra gusto e natura, arte, spettacoli e grande musica con Peppe Servillo, Mauro Ermanno Giovanardi, Cristiano Godano e tanti altri. Cartoceto Dopp Festival, 47esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva, è domenica 3 e 10 novembre. Prevendita su CiaoTickets.com